Perché talvolta non riusciamo ad essere rigidi nel seguire un piano alimentare, abbiamo sempre fame, non riusciamo a sopprimere questo continuo senso di ricerca del cibo? La fame in realtà è un bisogno fisiologico, quindi molto spesso non si tratta di vera e propria fame, ma si tratta di appetito, molto spesso appetito nervoso. La fame possiamo dire che sia uno stimolo di base che ci spinge verso la ricerca del cibo per la sopravvivenza e quindi ci spinge verso la ricerca del cibo elaborando anche delle strategie per procurarcelo. Noi attualmente nella nostra società non abbiamo questa necessità, più che altro abbiamo quasi un eccesso di cibo, sicuramente abbiamo delle fonti alimentari molto ben disponibili e che non sono sicuramente carenti, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali. Invece abbiamo la necessità più che altro di procurarci un altro fattore limitante che in questo momento è presente nella nostra società che è il denaro, che ci serve invece per comprare i cosiddetti beni, quindi quello che ci serve per la nostra sopravvivenza. Quindi è lì più che altro che agisce la nostra capacità di elaborare strategie. La fame comunque è qualcosa che viene determinata a livello del sistema nervoso centrale, quindi nel nostro encefalo, a livello dell'ipotalamo. Noi ricordiamo l'ipotalamo perché ne abbiamo parlato nel video che riguarda la tiroide e nel video che riguarda l'attività sessuale, quindi gli ormoni e tutto quello che agisce a livello dell'attività sessuale nel periodo di amenorrea, ad esempio, oppure nei periodi di menopausa. L'ipotalamo agisce però, determina lo stimolo della fame oppure induce sazietà sotto l'azione di altri ormoni, che sono prodotti a livello dello stomaco, sono prodotti a livello del pancreas oppure a livello del nostro tessuto adiposo. Infatti ci sono due teorie principali, la glucostatica e la lipostatica, che cercano di spiegare i meccanismi che sono la base dello stimolo della fame e della sazietà. La glucostatica sostiene che alla base vi sia il livello di glicemia, il livello di zucchero nel sangue, la glicemia quindi, che se scende al di sotto di un certo livello di guardia, quindi, innesca lo stimolo della fame. Se invece il glucosio rientra in un certo range, in un certo livello, e quindi è sufficiente a livello del sangue, non è necessario mangiare e viene inibito lo stimolo della fame. La stessa cosa fa il tessuto adiposo nella teoria lipostatica, cioè i centri della fame e della sazietà sono influenzati dai livelli di grasso corporeo, quindi se ce n'è abbastanza, se è sufficiente, allora il cervello riceve un segnale di inibizione della fame. Se le riserve del tessuto adiposo scarseggiano, invece, si viene spinti verso il cibo, il cervello invece produce stimoli verso gli alimenti, quindi fame. Valgono entrambe le teorie, perché una agisce più nell'immediato, quindi tra un passo e l'altro, la teoria glucostatica, la teoria lipostatica agisce più nel medio e nel lungo periodo, quindi sulle nostre riserve di energia al livello del tessuto adiposo. Per giustificare, quindi, per avvalorare questa teoria lipostatica, è stato scoperto in realtà anche l'ormone leptina, che è molto importante, e che è prodotto dal tessuto adiposo. La leptina agisce, quindi, a livello dell'ipotalamo, che ricordiamo controlla anche la sete, la temperatura corporea, l'attività delle gona e della tiroide. Quindi la leptina agisce sull'ipotalamo, perché nell'ipotalamo ci sono queste strutture, dette recettori, che servono a raccogliere questo ormone, che è la leptina. Quindi, se non ci sono queste strutture che possono raccoglierlo, in realtà la leptina potrebbe anche non essere utilizzata, quindi praticamente non riesce ad essere utilizzata per indurre appunto il senso di sazietà. Per cui avere alti livelli di leptina e non avere sufficienti recettori a livello dell'ipotalamo significa comunque avere una scarsa azione di questo ormone. La sintesi di leptina diminuisce quando diminuisce il tessuto adeposo, in particolare gli adipociti bianchi. I livelli di leptina invece aumentano dopo i pasti, sono maggiori negli obesi praticamente, e sono inferiori invece nelle persone magre. Però sembra che le persone magre abbiano una maggiore sensibilità rispetto a questo ormone rispetto agli obesi che hanno una scarsa sensibilità, probabilmente proprio a livello dei recettori, che non riescono a raccogliere questo ormone oppure sono poco presenti a livello dell'ipotalamo. La leptina regola anche l'attività della tiroide, quindi è molto importante anche per questo, facilita il ricambio delle cellule del sangue, quindi le matopoiesi, regola il sistema immunitario, a volte può addirittura scatenare malattie autoimmuni, regola la formazione dell'osso, per esempio, quindi l'equilibrio nella formazione del tessuto osseo, e il sistema riproduttivo. Inoltre regola anche la secrezione degli ormoni sessuali, quindi vedete quante cose importanti riesce a fare il nostro tessuto adiposo, che è scarsamente considerato molto spesso quando si tende a dare molta importanza al tessuto muscolare, quando invece anche il tessuto adiposo è molto importante per tutta questa serie di regolazioni, e non soltanto per la regolazione della fame e della sazietà, praticamente. L'ormone opposto viene definito grelina, ed è prodotto dal pancreas, ma principalmente dallo stomaco, è molto importante anche nei processi di apprendimento, perché anche nel nostro sistema nervoso centrale, a minima parte, viene prodotto questo ormone. E ha un effetto cosiddetto oressizzante, mentre la leptina ha l'effetto anoresizzante, cioè la leptina induce la sazietà, la grelina induce la ricerca del cibo, la fame, e diminuisce anche il consumo energetico, quando invece la leptina aumenta la nostra spesa energetica, cioè quando noi abbiamo riserve di grasso corporeo, il nostro organismo pensa che può tranquillamente riuscire a spendere di più da un punto di vista energetico, proprio come quando noi abbiamo un conto in banca molto sostanzioso, e riusciamo quindi a pensare di poter fare alcune spese in più. Nel digiuno abbiamo alti livelli di grelina, e abbiamo alti livelli di grelina anche nelle persone bulimiche, quindi questo è un indice di una mancata regolazione a livello di questi ormoni. Negli obesi ci sono bassi livelli di questo ormone, però negli obesi, come sappiamo, c'è un meccanismo alterato, quindi non possiamo basarci soltanto sui livelli di questi ormoni per capire che cosa succede negli obesi. Anche, come dicevo, pancreas, intestino, rene e polmone producono questo ormone in minima parte. I livelli di grelina salgono quando si ha una restrizione del sonno, quindi quando si dorme poco, perché si ha più appetito, come ben ci accorgevamo spesso quando abbiamo una scarsa qualità del sonno, oppure dormiamo poco. Inoltre ci sono delle situazioni fisiologiche di aumento della grelina in fase di crescita, nei ragazzi tra i 9 e i 12 anni, oppure durante la fase dell'adolescenza, principalmente nei maschi, in una fase in cui sembra che i ragazzi abbiano continuamente fame, sembra che niente li possa saziare. E quello è proprio il fatto che producono costantemente grelina. Poi durante la gravidanza c'è anche questo alto livello di questo ormone. In autunno e in inverno sembra che siano più alti i livelli di grelina a causa della mancanza di luce, perché ci sono meno ore di luce, praticamente, e questo agisce sul nostro umore, sui nostri livelli di serotonina. E anche altri fattori agiscono sui livelli di serotonina, quindi quanto più è bassa la serotonina, in realtà più è alta la grelina, quindi quanto più riusciamo ad essere, non riusciamo ad essere sereni e tranquilli, tanto più la nostra grelina ci spinge ad avere fame. Durante le oscillazioni, quindi, di questa grelina, durante il ciclo mestruale, durante la menopausa, si ha maggiore fame, aumenta quindi il desiderio di cibo, in particolare di cibo dolce. In caso anche, per esempio, di situazioni stressanti in famiglia, nel nucleo familiare, in caso di rotture sentimentali, lì aumentano i livelli di grelina, e aumenta il cosiddetto appetito nervoso, che indica molto spesso situazioni di solitudine, di scarsa autostima, di noia, di ansia. Queste sono tutte situazioni che si tende a compensare con la cosa più semplice, cioè con il cibo. Tra le cause anche della fame continua, o meglio dell'appetito continuo, ci sono uno scarso apporto di proteine, che molto spesso è la causa principale, perché noi con le proteine riusciamo ad avere un'ottima regolazione di questi ormoni, un ottimo ricambio di questi ormoni, quindi una produzione eccellente, ma se noi non diamo al nostro organismo le proteine giuste, ma anche i grassi giusti, non riusciamo a produrre, a regolare bene questi sistemi ormonali. queste forme di regolazione a livello organico. Inoltre, come vi dicevo, la mancanza di sonno è una causa della fame e poi principalmente l'apporto continuo di zuccheri raffinati. Quando noi andiamo a introdurre costantemente alimenti con indici glicemici alti, andiamo a introdurre nella nostra alimentazione pasti con carichi glicemici importanti, quindi in cui magari sono presenti solo zuccheri, solo carboidrati, pensiamo a una pizza senza neanche verdure oppure proteine vicino, pensiamo a un piatto di riso e poi dopo aggiungiamo una frutta o un dolce. Sono tutti pasti molto zuccherini, molto carichi di amidi, di zuccheri, che tendono a far aumentare troppo rapidamente i livelli di glicemia nel sangue. Quando aumenta troppo rapidamente la glicemia nel sangue, aumenta l'insulina e quindi la risposta ormonale ai livelli di zuccheri nel sangue. Se si hanno i picchi di insulina, subito dopo abbiamo i cali di glicemia e quindi questa situazione di ipoglicemia ci fa ritornare alla teoria glucostatica in cui se abbiamo un livello basso di glucoso nel sangue, subito l'organismo risponde con una ricerca di cibo, con una fame e quindi l'ipoglicemia fa aumentare la fame. Quindi la strategia migliore non è fare tanti spuntini dolci, ma farli non dolci, ma a base di proteine, a base anche ovviamente di parte di carboidrati e di grassi. Insufficienti quindi quantità di grassi, soprattutto insaturi, fanno avere questa fame continua, quindi occorre mangiare noci, occorre mangiare uova, occorre anche mangiare pesce grasso che viene eliminato dall'alimentazione quando invece è eccellente proprio per questi sistemi di regolazione. E occorre anche bilanciare, equilibrare e variare molto tra gli oli vegetali, quindi non utilizzate sempre l'olio d'oliva perché ci sono tante tipologie di oli che hanno diversi profili lipidici e che sono invece importanti per arricchire la nostra riserva di grassi. Cosa bisogna fare praticamente per evitare questi alti livelli di grelina? Bisogna soddisfare il nostro stomaco perché è lì che praticamente viene prodotta e talvolta viene prodotta in eccesso. Quando noi pensiamo a tutti questi disturbi del comportamento alimentare come possono essere la bulimia, possono essere l'obesità chiaramente perché comunque l'obesità parte da una situazione di squilibrio a livello del sistema della fame e della sazietà e ovviamente situazioni come per esempio la morsia. Tutti questi disturbi del comportamento alimentare noi li chiamiamo disturbi del comportamento ma in realtà sono disturbi che partono soprattutto da una base fisiologica e nervosa cioè da un alterato sistema di regolazione della fame e della sazietà a livello del sistema nervoso centrale. E perché si ha questo squilibrio? Proprio perché non si riesce a produrre bene questi ormoni magari con uno scarso apporto di proteine e soprattutto non si riesce a soddisfare bene i nostri succhi gastrici. Quando noi pensiamo all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni ideata dal dottor Dadamo diffusa, divulgata dal dottor Mozzi che ha arricchito ulteriormente questa teoria in maniera eccellente a mio avviso quando si pensa a questa differenziazione tra le persone appartenenti ai gruppi sanguigni ci si accorge che si basa principalmente sulla diversificazione nella produzione di succhi gastrici. La produzione di succhi gastrici è diversa da individuo a individuo però in genere molti appartenenti al gruppo zero per esempio hanno una eccessiva produzione di succhi gastrici che se non viene compensata con le proteine che se non viene compensata con le proteine, grassi, alimenti giusti carne, pesce, uova grassi principalmente animali ma anche grassi vegetali chiaramente se non viene compensata questa produzione di succhi gastrici è continua ci fa avere fame continuamente oppure in certe situazioni ci fa rifiutare il cibo quando viene percepito come qualcosa di dannoso e non adatto al nostro organismo e quindi va poi nel tempo può squilibrare questi processi di regolazione a livello ormonale e a livello del sistema nervoso centrale quindi la strategia migliore è soddisfare il nostro stomaco sempre come? con il cibo giusto un'ottima strategia potrebbe essere anche quella di basarsi sull'indice di sazietà per esempio ci sono alimenti che hanno alto indice di sazietà come la carne il pollo ad esempio le bistecche di manzo la carne in genere ha elevati indici di sazietà e inoltre dobbiamo anche pensare che i succhi gastrici a livello dello stomaco sono adatti soprattutto all'accessione delle proteine quindi se noi diamo delle proteine calmiamo i succhi gastrici anche il riso integrale anche per esempio pesce grasso pesce proteico questo ci fa avere indici di sazietà molto elevati gli alimenti con indici bassi di sazietà sono praticamente i dolcificanti il miele lo zucchero semplice tutte le tipologie di dolcificanti soprattutto i dolcificanti artificiali quelli dietetici che sono i peggiori in assoluto e che in realtà fanno aumentare moltissimo il senso di fame perché non placano la fame anzi la scatenano quando nei piani alimentari oppure nelle diete fai da te vengono utilizzate bevande gassate bevande zuccherate con dolcificanti sintetici e spacciate per bevande light scappate eliminate il più possibile queste bevande eliminate i piani alimentari che le contengono perché sono terribilmente dannose per la regolazione del sistema di fame e sazietà quindi magari nell'immediato vi sembrano una buona una buona idea nel momento in cui dovete per forza bere questa bevanda zuccherata e la preferite light ma poi se la consumate spesso va a scatenare delle conseguenze terribili e devastanti per i vostri sistemi ormonali quindi eliminate queste bevande zuccherate ed eliminate anche tutte le bevande gassate perché le bevande gassate non aiutano la distensione delle pareti gastriche e quando le pareti gastriche non sono distese cominciano a produrre ancora di più grelina quindi vi fanno avere ancora più fame le pareti gastriche come si distendono con bevande calde con bevande che non siano eccessivamente fredde rispetto alle pareti dello stomaco e che non siano zuccherate non siano irritanti quindi non bevande gassate molto acide e non neanche l'acqua gassata praticamente quella anche riesce a scatenare molto il senso di fame purtroppo quindi ricordiamoci dell'indice di sazietà degli alimenti scegliamo alimenti ad alto indice di sazietà come anche i legumi possono essere chiaramente che in genere hanno appunto indici di sazietà elevati e hanno inversamente densità caloriche molto basse perché in genere queste due cose sono inversamente proporzionali gli alimenti più calorici saziano di meno infatti pensiamo a tutti i dolci cremosi che saziano poco però sono molto calorici e poi invece alimenti che hanno indici di sazietà alto non sono invece molto calorici quindi la soppressione della grelina quindi della fame passa per le strategie alimentari che mirino a far arrivare il cibo giusto nello stomaco quello che sazia il nostro stomaco soddisfa i nostri succhi gastrici i succhi gastrici non sono uguali per tutti pensiamo a una persona di gruppo 0 una persona di gruppo AB o anche di gruppo A non hanno la stessa produzione di succhi gastrici e ovviamente quindi non devono ingerire gli stessi alimenti per soddisfarli e poi anche la distensione delle pareti gastriche non utilizzando bevande irritanti gassate dolcificate neanche con dolcificanti sintetici se questo video vi è piaciuto continuate a seguire i video su questi canali e anche la mia pagina facebook dottoressa Cristina Coccia biologa nutrizionista e il mio sito web www.cristinacoccia.it un saluto a voi a presto a presto